musica 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 allora questo fucile non sono riuscito a trovarlo ma proprio niente non trovo questo armadietto beh riattiviamo la luce tanto non penso ci serva allora andiamo beh vabbè andiamo di qua oh mio dio ma che è? una bomba si è in ciampo cavolo ma ho cercato di saltarla io ma non ci sono riuscito io non l'ho proprio vista ragnavele ragnavele ok 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 oddio è suonata l'allarme andiamo tra poco ci sarà una seconda a salingrado qui oh cazzo è davvero difficile da fare cazzo andiamo 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 fiu che culo che culo oh mio dio perché c'è sta il triangolo con la morte disegnata mi sto nella tana dei ragni mi sto nella tana dei ragni eh io ci sto quasi più entrando oddio ma che è tutte tutti i paletti sembra la casa di Sara Tommasio ma l'hai salvato il tizio? si l'ho salvato adesso sto con lui dentro un tunnel mori va un culo non urlare tana che cos'è sta arma? non mi piace per niente che arma è questa? brutta cosa brutta cosa oh cavolo oddio oh cavolo ma che è tutti sti cosi che si aprono ah in pratica hanno paura della luce nooo non mi dico che vuoi passare il cunicolo brutto schifoso partio vieni ad aiutarmi ecco cristo andiamo ok per tutti tutti per uno perchè c'è il segno della batteria bassa? è la torcia forse che si sta spegne ah perchè c'è la batteria della torcia eh c'è almeno nel primo c'era una specie di coso che ricarica la batteria ho trovato utilizza l'accenti come fatto che io non e poi il pulsante sinistro del mouse ok mettiamo ok perfetto oddio mio ma che è quella tana dei cosi da sapere da sapere ma di tutto troppo alto di sicuro oh 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 allora vediamo eh fammi attivare il pulsante attivarlo tu perfetto mi sembra troppo bello che però è partito eh troppo bello che però parte così veloce ecco si è fermato guardiamo è ripartito guardiamo che cazzo fa parte e si ferma ma ora guardiamo si è rotto l'interruttore si è rotto l'interruttore oddio che cinesata davanti vabbè che c'è cento anni sta cosa però no che è? che cosa? cazzo oh ma che è stanno iniziando a passare tutti sui lati guarda quelli grossi oh 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 che cazzo fanno? spara spara bastardo ah con la luce gli devi bruciare Esatto E poi gli spari Porco cane C'ho un'arma che mi piace tanto L'ho appena presa usata E' una specie di pistola mitragliatore Oh cazzo Bastardo Bastardo muori L'ho fatto prendo un colpo L'ho fatto prendo un colpo Usciti finalmente Eh io sto quasi per uscire Ci sei penetrato Ah ecco Dai cadavri Andiamo Andiamo Allo E' mo qua Ancora Sì ma ti sto puntando la luce Cristo Ma tu niente Ah pure l'accendino Io c'ho la torcia accesa Pure l'accendino serve Start Il pistolero del west Fanculo Ok Sono andati Strano Beh adesso Beh adesso Dobbiamo fare Abbatizio Ah ok No non mi di che fanno Il lancio Ah No lo fa Oddio mio che cazzo Brutta cosa Dove 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 Andato Porco cane Ma stai in superficie tu No magari Ah No magari non proprio Perché in superficie Stanno gli uccelli volateli Che te prendono Stai in mezzo ai ragni giganti No però Cavolo Spara Gli grande Allora Sto russo E' proprio un grande No No Merda Muovite Vai 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 Eh si Stiamo a fa Tarzan Qua Oh Bravo Sì magari Corriamo Casomai Se Godo Come un porco Dai Oddio no Troppe ragnatele Olè Ma perché le torce Non vanno bene Per forza la torcia Bene Andiamo Ah ok Non mi sa Adesso dobbiamo uscire In superfice Brutta storia Eh si Vai Bravo Andiamo Oh cazzo Batteria scarica Porca trota Bestia di Merda Purtroppo Mi ritrovo Con la batteria Molto scarica Della Eh Della Torcia E quindi Siamo Abbastanza Fottuti No adesso Proverai un bel po' Di munizioni Ah Che se ce n'ho Abbastanza Ce n'ho 300 Ok Mi rimangio quello Un bel po' Ok Come segui i fili Eh Sono due munizioni Del cavolo Non sono un bel po' Perfetto Ti ci fai Ho un caricatore Porta chiusa Eh Dobbiamo far il giro Non me l'ommaginavo No Però Che palla Non mi ha Ah Ah ma non fai più lo stronzo Lurido Ma da dietro Mamma mia Cazzo Eh vabbè Porca Andrea Pioggia radioattiva Pioggia radioattiva Sì Mori No però ste cose si Troppi troppi corri Oh cavolo Sì sono accese le luci che bello Bene Almeno adesso non rompono i coglioni Andiamo Ok Bene 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 Eh se premi giri cambia filtro ma fallo solo quando te lo dici Perché No cambiato la maschera con quella di un morto Ah ok ok Dov'è il mio alleato? Ecco Ah ecco Superficie Andiamo Oddio brutta cosa Riprenditi Molto brutta cosa Come non abbiamo molto tempo prima che faccia notte Porca miseria Maschere Maschere Mamma mia Mi ha preso il mio infarto Ok mi tengo la rossetta Ok mi rimangono 5 minuti di aria Se non erro Guarda che luce Mamma mia Mi ha ciecato Hai visto quando sali le scale no? Ok Ho sentito parlare di questo posto Quell'aeroplano era il diretto a Mosca Tra un'intera città preso fuoco Ah l'edificio su cui si è schiantato E l'ingresso del teatro Sta arrivando un disgelo qua su Sembra quasi primavera eh Ma questi mostri sono nati da esplosioni nucleari Eh si sono esplosioni No prima era tutta gente normale Però le mutazioni genetiche L'hanno trasformate in Mostri Beh si Anche Cazzo che è piove Oh madonna Oh cavolo Merda Certo però Oddio Ok ho trovato dei filtri Dinamite Oddio 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 Fai vedrai Certo che però dopo una Una guerra nucleare Cioè Se il mondo fosse veramente così sarebbe una cosa veramente brutta It's Avevo un granco Ovviamente Oddio Oddio Un branco che è Madonna mia Non sono i mostri che avevamo sterminato con le testate nucleari Si è bloccato il gioco Come? Porco cane si è bloccato il gioco Ma come? Sei rimasta di immagine ferma What? Mi calacra Mmm non lo so Apriamo Andiamo Ma che pezzo eri tu? Dentro l'aereo Ma io ci sto entrando adesso Quindi lo vediamo Guarda che succede Altrimenti le funzioni Ok Oh madonna Ah l'impulso di MP Come l'impulso di MP Eh si è visto il lampo di MP Che ne so Si è spento i riattivati i sistemi Ah una testata nucleare Eh si Si sto al pezzo quando stanno i piloti Che parlano tra di loro Ah lo sai cosa può essere Qualche volta gioco piano e si blocca Ma non è un problema della crack Non ti preoccupare Ma se lo rifai Lo riavvi Mi lavoro Fai una testata Fai la taglia Perché noi abbiamo Quest'底 Gioco Dobbiamo �ocere Sant'ana Ah 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 Artyom, se non mi avete svegliato, sarei probabilmente sconfocato. Come è questo qui? Andiamoci da qui. Adesso, cavolo e notte. A destra, credo che troveremo l'ingresso dietro all'ingresso, merda! No, demoni, demonica. Eh, beh, a dirlo. Ok, eccoci qua, sperate l'interruzione, ma è un blocco. Oddio, no, ma presa. Eh, i demoni sono un problema in questo gioco. Ma hai visto sull'aereo che si scelera? Eh? Hai visto che si scelera sull'aereo? Mi chiamati se sono riscaldata l'arma, la madonna. Che è successo? L'orologio mi ha suonato l'orologio. Ti, 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 ti. Ah, meglio se cambio filtro. No, così ho tolto la maschera. Cavolo. Come si cambia filtro? Non lo so. Prova a tenere la muta giù. No, cavolo, ho tirato una bomba. C'ho 4 mili... Ah, ok, ok. Cambiato filtro. Porca, mi sei sbagliato. No, qua stanno in radiazioni. Dove dobbiamo andare? Eh, questa è l'entrata, no? Eh, ci sto. Però, se il mio amico è incoglionito, non... Quante cose devo controllare qua? Batteria. Ah, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare? Beh, niente, non riesco ad andare avanti, perché... Praticamente, devo entrare qua dentro, però... Non so come... Non so come... Come poter continuare. Se il tizio qua sta fermo, non si muove. Eh, mi sta a finire pure la maschera. L'unica zona dove si può andare è questa, quindi proviamo a lanciare una bomba. Non lo so. Ehm... Come cacchio l'ho tirata la bomba? Vediamo. No. Niente. Che cosa devo fare? Quando mi si appanno la maschera, perché... Eh, devo cambiare filtro, beh? Eh, sull'orologio, vedi un po' quanto ti manca sull'orologio? Sei, cinque, quattro... Eh, sbrigate, allora. Come si cambia? G, premi G, qualcosa, non lo so. Ah, ok. Quanto ti manca? Sì, guarda. Eh. Porco, tu mi ha preso. L'uccello volante, là. Sì. Ah, sì, sì, normale. Cavolo. Ok, meglio se cambi... Finito l'orologio, cazzo. Come... Come hai fatto a cambiarlo? G. Perché con G a me mi spanna la cosa, là. No, tieni promuto. Eh, mi leva la maschera. Esatto, e te la rimette col pietro nuovo. Bah. Nego, ho capito tanto. Tu l'hai presata, pietro. No, eh... Ah, no, perché già l'avevo provata, ma non mi sembrava... Però, cazzo, non riesco ad andare avanti. Perché c'è il mio lolleato qua che è semppallato. Provo a riavviare, non lo so.